tagliuzziare a cubetti la cipolla mettere due cucchiali d'olio in pentola e metterla a bollire poi soffriggere le cipolle per due minuti tagliare a fette una zucchina le fette della zucchina in strisce e poi le strisce in cubetti mettere a soffriggere tre etti di macinato di carne le zucchine dovranno avere più o meno questa forma e poi tagliuzzare ancora mettere l'acqua per il riso ecco qui il riso mettere le zucchine a soffriggere con la carne e le cipolle e poi mescolare la pappetta se si può chiamare pappetta procurarsi formaggio e bacon aprire i fagioli e versarli per bene nell'impasto in questo caso abbiamo usato metà barattolo e poi mischiare ancora prendete questa marca è migliore grattugiare il formaggio ce ne dovrà essere un bel po' mettete l'acqua per il riso e poi buttate il riso poi mettete una padella e dell'olio e poi aggiungeteci delle strisce di bacon ora arriverà un trucchetto che in pochi conoscono nel mentre mettere almeno quattro strisce eccolo qui il trucchetto prendete un po' di acqua un riveto come ho fatto io potete prendere qualsiasi e versarla nel mentre mettere le piadine nel forno e riscaldarle per meno di un minuto ecco qui questo dovrebbe essere quello che si dovrebbe vedere per mangiare meglio prendete queste due salse avocado e lime e hot chicken fidatevi cambiate lato dove cucinare il bacon dopo aver messo il bacon su carta assorbente mettere altro bacon guardatelo guardatelo come si cucina ecco la terza ed ecco la quarta e poi trucco di magia potrebbe fare le fiamme occhio aiutatevi da un genitore girare le piadine intanto qui c'è la mini 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 guarda mini buona scolare il riso e assemblare il tutto con la salsa avocado e lime una cucchiaiata di riso o se volete come ho fatto io due una slash due cose di bacon non mi ricordo il nome scusate poi formaggio poi la salsa hot chicken comunque striscioline di bacon ecco poi due belle grasse grasse no cucchiaiate di pappetta di carne fagioli zucchina e cipolla chiamiamola così altro formaggio e giusto perché si altra salsa avocado guardate qui che bellezza e per gustarvelo diventate messicani e godetevi il vostro burrito scari esthumscares scari alerts numero 5